Nessuna vendita dell'asset Universo Salute a smentire le voci circolate negli ultimi giorni e il vicepresidente esecutivo Paolo Telesforo che in una nota fa chiarezza sulla vicenda. Rivolgendosi ai lavoratori Telesforo afferma che non li abbandonerà mai, non è una questione di soldi ma di rispetto verso chi si è sacrificato al mio fianco, oltre ogni limite, argomenta Telesforo. Siete la mia famiglia e la famiglia non l'abbandono, continua ancora il vicepresidente esecutivo di Universo Salute per l'opera Donuva, quella del 2023 e una primavera di rinascita, di rilancio, di visione prospettica all'indomani della storia di riconversione degli istituti ortofrenici, giunta al termine di un iter ventennale complesso sostanziato dalla progressiva trasformazione di quel manicomio cancellato dalla riforma Boscaglia in una cittadella della cronicità, della disabilità, della riabilitazione e dell'assistenza al malato terminale. Una cittadella funzionale e moderna, continua ancora la nota di Universo Salute che sottolinea poi i risultati raggiunti. Non è passato tanto tempo da quando la struttura ha rischiato di naufragare sotto il peso schiacciante di un default di 600 milioni di euro. Nel giro di un lustro si è materializzato un piccolo autentico miracolo, un microcosmo ben lontano da ridimensionamento e licenziamento che continuano ad affliggere grandi e piccole aziende italiane, sottolineano ancora da Universo Salute. Per l'opera Donuva continua invece il processo di crescita caratterizzato da investimenti, professionalità, impegno e sacrifici. Questione di credibilità e certezze per i lavoratori su questi temi prosegue la sfida di Paolo Telesforo per un futuro di grande prospettiva e la chiosa di chi ha inteso fare chiarezza sulle voci di questi ultimi giorni.